Diciamocelo chiaramente, non tutti hanno PC top di gamma con super specifiche schede video stellari e processori fantastici. Molti di voi, così come ce lo conferma il survey di Steam, dispongono di build di fascia bassa e media. E questo vuol dire che per il gaming magari dovete scendere a qualche compromesso. Soprattutto con l'avvento dell'handheld come la Steam Deck è diventato vitale saper scegliere alcuni giochi, ma soprattutto secondo me ci sono un tot di titoli che sono particolarmente invitanti da giocare con una modalità rilassata da divano ma soprattutto comandi da controller, anche su Steam. Quindi in questo video vi propongo alcuni dei miei titoli preferiti che ho giocato, che ancora devo giocare, che secondo me rendono l'esperienza endeld e dei PC low budget veramente fantastica, senza compromessi. Prima di iniziare però nei commenti vorrei sapere i vostri 3-4 titoli che pensate possano girare su tutte le piattaforme. Non vi preoccupate di dirne anche gli scontati, magari lo sono per voi o per altri, ma non per tutto il pubblico. Fatemi la vostra top 3, top 4, top 5, se volete esagerare, top 10. Giù nei commenti e fatemi sapere insomma come possiamo aiutare questi low spec gamer oppure handheld enjoyer, come potremmo definire, enthusiast. E iniziamo con questo video. Ovviamente ho creato delle regole, perché giustamente non vi posso sparare qualsiasi gioco e se fa 20 fps va bene, perché a qualcuno va bene. Ci sono dei paletti. Prima di tutti i giochi che ho selezionato sono per lo più disponibili anche su Steam, ma anche su altre piattaforme. Questo vuol dire che Steam Deck, Rogue Alley X, il nuovo Legion Go, qualsiasi endeld basato su Windows, saranno in grado di farli girare. La seconda regola è che Steam Deck, essendo la endeld con minore potenza di calcolo tra le maggiori, deve essere in grado di far girare questi titoli ad almeno 35-40 fps, in condizioni decenti di grafica. Cioè non devono vedersi pixel grossi come una casa, deve essere un'esperienza piacevole. Terza parte, principalmente dedicata all'endeld, i giochi devono essere fantastici, una buona buona esperienza da giocare con controller. Si possono poi giocare sicuramente anche con mouse e tastiera, però questi hanno il controller e quindi dobbiamo basarci principalmente su di loro. Primo gioco super super consigliato su endeld è la saga di Hades. Adesso proprio nel 2024 è uscito il secondo titolo, quindi un'occasione fantastica per esplorare questo che non è che altro che un roguelike, che si potrebbero anche definire diablo-like se vogliamo utilizzare il vecchio termine. Visual e isometrica dall'alto, proprio in tema di Diablo, ma dal GDR di casa Blizzard si distingue per uno stile a mio dire un po' più dinamico. A meno che non fosse dei giocatori per esempio di Barbary o cose del genere, personalmente ritengo Hades un pochettino più frenetico. La cosa interessante è che ad Hades 2 ci devo ancora giocare, abbiamo visto alcuni video e le prestazioni sembrano essere veramente elevate anche su Steam Deck. Attualmente come gioco costicchia un po', devo essere onesto, però può essere un'occasione per iniziare dal primo capitolo e poi scalare, che invece costa un po' meno, e quindi di per sé approcciare questa esperienza. Altro gioco indie che vi consiglio è Outer Wilds. Questo è un gioco molto, molto sereno, per chi ama esplorare, per chi ama lo spazio, per chi ama il cielo in generale. È un viaggio spirituale Outer Wilds. Io ci sono ancora dentro, devo finirlo, però ultimamente mi sto massacrando di Elden Ring, quindi sono un pochettino distaccato da questo mondo. Ma se vi piace giocare a cose chill, veramente belle, ma con una trama profonda, Outer Wilds fa per voi. Per quella che è stata la mia esperienza attuale, cercando di non fare spoiler, effettivamente Outer Wilds è uno di quei titoli un po' più di esplorazione che di una trama specifica sparata sulla tua faccia. Cosa che trovo veramente interessante perché stimola molto la curiosità. Prendete il vostro razzo e andate a esplorare asteroidi vicini, corpi celesti e cose che vi piacciono. Ora però, mettiamo che vi piacciono gli alieni, ma vi piacciono anche i nani. Nani minatori armati fino ai denti. Sì, c'è un arcade che è tra i miei preferiti, penso di avere almeno un centinaio di ore su questo gioco, sto parlando di Deep Rock Galactic Survivor. Che è da distinguere da Deep Rock Galactic, che è un altro gioco completamente diverso, però ambientato nello stesso mondo e con gli stessi personaggi. La versione Survivor è un arcade con visuale dall'alto in cui dobbiamo immergerci in dei dungeon a 5 livelli con un boss finale. Dobbiamo completare delle missioni in maniera time sensitive, soprattutto con delle ondate che diventano sempre più grandi, cattive e molto, molto aggressive con noi nel corso del tempo. Dobbiamo compiere degli obiettivi. È un gioco che vi consiglio, se siete di quelli che si fissano su fare tutti gli obiettivi nei giochi, è molto, molto stimolante. Vi dico che io ancora non l'ho mollato e ancora non l'ho finito con oltre 100 ore di gioco. Rigiocabilità altissima, gira da Dio su Steam Deck Oled. È uno dei miei giochi preferiti quando sono in aereo, veramente fantastico, ci gioco sempre. Altro gioco che ho aggiunto di recente alla mia lista, ma che ancora devo giocare, è Death's Door. Questo è definibile, alcuni lo chiamano Souls-like, altri lo chiamano Diablo-like. Devo essere onesto, è una sorta di mini-GDR, non troppo espanso in quei termini, con visuale isometrica in cui voi siete il vostro piccolo corvetto con la sua spada, le sue armi. E vi dovete muovere in un mondo in cui risolvendo alcuni puzzle sbloccherete delle porte, combatterete dei nemici, dei boss. È una versione un po' rilassata, diciamo, di un Souls-like mischiato a Diablo. Quindi il livello di difficoltà, secondo me, è a metà tra i due. I gameplay che ho visto, senza spoiler, mi hanno entusiasmato parecchio, perché mi sembra proprio una sorta di Diablo con un misto di puzzle, esplorazione, non troppo difficile, quindi qualcosa che puoi fare anche per passare il tempo in serenità. E gira a ben 60 fps su Steam Deck, quindi gira ovunque bene, su tutte le handheld. Fantastico, non costa nemmeno tantissimo, da mettere in lista di sicuro. Ultimo titolo tra quelli indie che vi straconsiglio per chi voglia proprio chillare pesantissimo è Dave the Diver. Allora, Dave the Diver è uno di quei titoli che probabilmente su Steam almeno una volta l'avrete visto. Voi siete Dave, avete il vostro business di scendere nell'acqua e semplicemente raccogliere tesori, pescare pesci con la vostra fioccina, difendervi dagli squali. Ci sono una marea di cose da fare ed esplorerete i mari fino ad arrivare agli oceani più profondi dove si annidano squali, balene, bestie enormi e cose così, no? Non è ai livelli di subnautica in termini di esplorazione, stiamo parlando di un gioco 2D, ma secondo me è super rilassante per chi voglia appunto passare del tempo in tranquillità. Ovviamente pesa niente, nulla, nismanada e quindi potete giocarci tranquillamente a 90 fps anche sulla Steam Deck OLED. Più o meno ho visto che dura sulla quarantina e cinquantina d'ore, quindi secondo me titolo con rigiocabilità fantastica per il prezzo. Ma ammettiamo che voi siate appassionati di titoloni, vogliate il AAA, quello cattivo, e io cosa gioco su Steam Deck in questi termini? Non Forbidden West, alcuni di voi me l'hanno consigliato Horizon Forbidden West, su Steam Deck devo dire non è l'esperienza che vorrei da quel gioco. Nel senso che dopo averlo sperimentato su un PC top di gamma con un 360 Hz Q di OLED, signori io fatico, fatico assolutamente a tornare indietro. Ma ci sono altri titoli molto interessanti, uno tra tutti un po' vecchio vi consiglio Red Dead Redemption 2. Ragazzi è un titolo che non è leggero, non è leggero per niente, lato CPU è massacrante anche su PC desktop, però devo essere onesto, questo titolo Western è perfetto per un Endeld. Perché? Perché alla fine questo titolo Western vi sprona a esplorare, vi sprona a cercare, essere curiosi e cose del genere, no? E quindi è perfetto per un Endeld, perché la portate in condizioni in cui magari avete proprio tempo da utilizzare, tempo libero. Magari in vacanza mentre aspettate che tutti quanti si preparino per cena, sul treno, in aereo, in macchina mentre guida qualcun altro, lo sottolineo sempre perché ho sempre paura che qualcuno capisca male le mie parole, oppure in altri contesti. Insomma, ovunque la vogliette usare, secondo me Red Dead Redemption si adatta perfettamente. È un gioco che gira leggermente sotto la soglia che mi sono, diciamo, imposto, va più verso i 35-37 fps che verso i 40, però di per sé, rimodulandolo un pochino, gira bene. Questo su Steam Deck, invece su Rogue Alliance e Rogue Alliance gira nettamente meglio, lì già vi potete avvicinare verso i 60 fps, secondo me, con un pizzico di aiuto in termini di settaggi. Altro titolo che ruba veramente tante ore e si merita tante lodi, Baldur's Gate 3. Ora, è un tipo di gioco particolare, nel senso che è un GDR strategico a turni, non è semplice da apprezzare, però al lato di trama, personaggi, sviluppo delle caratteristiche degli stessi e cose del genere, è veramente assurdo, nonché ha una soundtrack, è una trama generale fantastica. Quindi, ve lo straconsiglio, è divertente, è un gioco esplorativo a suo modo, prende tante ore e quindi, nuovamente, Endeld sono fantastiche per questo contesto. Cioè, quando dovete fare tanto farming, tanta esplorazione, secondo me queste sono le piattaforme più giuste. Concludo in maniera molto semplice con il titolo che ho citato all'inizio di questo video, Elden Ring. Ora c'è anche il DLC. Vi sta parlando una persona che in questo momento non l'ha finito il DLC, ma ha 131 ore. 131 ore in tre settimane. È un gioco appassionante, come potrete ben capire. È un gioco che prende e soprattutto l'ho giocato anche proprio su Steam Deck. E vi dico che ho quasi fatto in first try Malenia sulla Steam Deck, OLED. Che è un mio vanto, perché devo essere onesto, mi aspettavo di leggere due spalate da quella lì, da come me l'avevano descritto. Malenia, ti voglio bene, vorrei una tua statua, un autografo e un bacio. Per gli altri di voi è un GDR esplorativo. È difficile, è complesso, dovete mettere giù delle ore, dovete essere pazienti col gioco. Il gioco non vi dà niente, voi siete inutili e i boss sono fortissimi. Questa è la logica del titolo, preparatevi. Infine, titolo su cui ho speso un 20-30 ore, Mortal Kombat 1. Quello uscito l'anno scorso, devo essere onesto, interessante a suo modo. Nel senso, è un titolo che gira bene proprio sull'endelda. È molto leggero, lo trovo particolarmente piacevole. Siccome era già un titolo che beneficiava dell'utilizzo dei controller, perché di per sé non ci giochi con mouse e tastiera, onestamente molto valido. Quindi fantastico, gira a 60 fps, spaccati, bello bello. Ma mettiamo che voi siate delle persone che dispongano di una cosa magica chiamata Xbox Game Pass o PC Game Pass. Diciamoci chiaramente che ci sono molti, molti titoli pensati al mondo dell'endelda e che io sto aspettando che Xbox, Microsoft, insomma, si decidano a fare la propria perché spaccherebbe il mondo. Pensate, tutto l'Xbox Game Pass con un'ottimizzazione software a livelli della Steam Deck, praticamente un Xbox portatile. Secondo me devasterebbe il mercato e andrebbe a colmare il buco che ha lasciato PlayStation Porta. Una delle cose peggiori che abbia mai visto. Però, anche se stiamo prendendo l'Xbox Game Pass come riferimento, sappiate che comunque questi titoli possono essere acquistati per la maggior parte su Steam. Primo titolo tra tutti che ho trovato particolarmente piacevole da giocare con Rogali X è sicuramente Forza Horizon 5. Gioco di macchine, molto molto leggero, gira fantastico, proprio anche su Rogali base. Ci avviciniamo a più di 100 fps, quindi anche molto molto fluido, particolarmente pensato per questo mondo. L'unico problema che mi possa ricordare è che devi stare perennemente online. Questa è l'unica cosa. Però di per sé, se giocate da casa, sul divano o cose del genere, titolo veramente super bello e oltretutto super ottimizzato, ovviamente, per il contesto dei controller, specialmente quelli Xbox, quindi fantastico. Dalle recenti acquisizioni di Microsoft peschiamo anche Diablo 4, che è uno di quei titoli che in questo momento latita un po' ovunque, un po' di tutti. Nel senso che potete comprarlo su Steam, potete comprarlo su Battle.net, dove ce l'ho io per esempio, oppure potete acquisirlo mediato Xbox Game Pass. È ovunque questo gioco. E devo dire, nonostante sia un AAA e nonostante sia un GDR particolarmente pesante, effettivamente, dal punto di vista delle richieste hardware, non è troppo esigente. Io a Diablo ci gioco da circa 22 anni e ne ho 28, pensate un po', e devo dire che è un GDR che non mi stanca mai. Magari gli ultimi due, cioè Diablo 3 e Diablo 4, sono secondo me un pochettino inferiori in termini di trama rispetto a Diablo 2, però metto le mani avanti. Comunque le loro 100, 200, 300, 400 ore se le sono beccate, perché se le meritano. GDR è bellino, Steam Deck lo fa girare bene, Rogalai X lo fa girare meglio, ve lo dico. Per l'esperienza finale, secondo me è un titolo più pensato per Rogalai X, ma comunque gira, secondo me, in maniera più che accettabile anche su Steam Deck. L'unico vantaggio però di Rogalai X è che potete averlo gratis nel Game Pass, quindi di per sé è un vantaggio economico notevole per chi i AAA costano, specialmente su Steam. Passando invece all'ambito degli indie, ne ho alcuni per voi che sono veramente interessanti. Prima di tutto, per chi non li conoscesse, permettetemi di introdurre il magico mondo di Annapurna. E anche un fan fact a riguardo. Annapurna Interactive probabilmente la conoscerete per un titolo in particolare che è Stray, il giochino del gattino nel mondo post-apocalittico che interagisce con i robot. Uno dei titoli, devo dire, che mi ha preso le 15-20 ore più piacevoli della mia vita. Veramente fantastico ed è stato oltretutto il mio primo apporcio al mondo di Annapurna in termini di giochi. Ma adesso sto colmando questa lacuna in particolare. Ad ogni modo, piccolo fan fact su Annapurna, fanno tutti questi giochi rilassanti, carini, pensati per famiglie magari. Qualche tema un po' scuro ce l'hanno, ma comunque in generale titoli molto molto belli, molto molto profondi e cose del genere. Al tempo stesso Annapurna, che possiede la Annapurna Interactive, che fa tutti questi giochi, produce Sausage Party. Sì, il film in cui il cibo scoppa. Oltretutto è appena uscita la nuova serie proprio di Sausage Party, quindi di per sé mi è tornato in mente anche per questo informandomi. Se Trojan sei un matto. Comunque, tornando ai loro giochi, che invece sono belli, cioè più accettabili, Flock. Flock è uno di quei giochi che o ti piace o non ti piace. Non c'è una via di mezzo. Tu sei sto pastore volante, chiamiamolo così. Devi andare in giro per il mondo, in questo universo rilassato, in cui non ci sono nemici, ci sono solo segreti da scoprire. E semplicemente devi radunare in un mondo multiplayer i tuoi piccoli amici volanti. Raga, soltanto a pensare a Flock la mia vita diventa più tranquilla. È uno di quei giochi carini, meravigliosi. Ce l'ho nella wishlist da due mesi, non vedo l'ora di giocarci. Adesso che andrò in vacanza probabilmente sarà l'occasione giusta. Oltretutto è un titolo multiplayer, non me l'aspettavo, ed è una cosa veramente molto interessante da vedere. Flock è un titolo che secondo me nel repertorio di Annapurna è secondo soltanto a Stray, altro gioco che vi straconsiglio, disponibile su Xbox Game Pass, su PlayStation Pass, come si chiama, e su Steam. Fantastico. Siete un gattino, potete andare in giro, arrampicarvi, miagolare, interagire con i robot, grattarvi con altri gatti, cose così, incrociare, vedere il mondo dal punto di vista di un gatto. Cosa volete di più dalla vita? Oltretutto non è semplicemente questo, ha pure una trama bella e secondo me profonda. Piacevole. Mi è piaciuto moltissimo questo titolo. Sono state veramente 15 ore fantastiche in compagnia di questo giochino, di questo gatto. Ho proprio dei bei ricordi, quasi mi vengono le lacrime con Stray. Soprattutto essere un gatto è qualcosa di molto divertente. Ma mettiamo che voi non siate delle persone tranquille, a voi piace sparare e usare la spada e cose così. No, ok, ok. Ho due giochi per voi. Sullo stile del Metroidvania, che se non lo sapete è quel genere di gioco, solitamente 2D ma esistono anche in 3D, tipo platform in cui ci sono vari livelli in cui dovete muovervi in maniera consecutiva. E il padre di questo sono appunto Castlevania e Metroid. Quindi se vi piacciono quei giochi questi due vi interesseranno. Uno è un po' vecchio, sto parlando di Hollow Knight, che onestamente è un titolo che trovate ovunque, anche su Switch se non sbaglio. Onestamente è pensato perfettamente per Landheld. Se non avete mai giocato a Hollow Knight e i suoi DLC, fatelo. È una lacuna a cui anch'io devo porre rimedio ed è infatti in lista, l'ho comprato ma ancora ci devo giocare. È veramente tanto carino, oltretutto me l'ha parlato sempre tanto tanto bene Lorenzo dei Prodigy, che saluto. So che è tipo uno dei suoi titoli preferiti di sempre. Ogni volta che parlavamo di qualcosa, insomma di videogiochi, lui tirava fuori Hollow Knight. Ciao Lore. Spero di aver presentato bene il tuo giochino adorabile. Sempre sullo stile di Hollow Knight, Metroidvania 2D, quindi vi consiglio anche SteamWorld Dig 2. È un titolo un po' vecchio, sarò onesto completamente, però secondo me non è invecchiato malissimo, nel suo genere perlomeno, che non è che abbia grandi novità. Insomma, è stato stabilito uno stile con Metroid due milioni di anni fa e quindi di per sé poi ci sono tutti quanti i giochi simili. Un po' come i Souls, no? C'è il maestro e poi ci sono i giochi che ne conseguono. Di per sé è un gioco carino, lo trovate su Xbox Game Pass, così come su Steam. È un qualcosa che nella mia lista, oltretutto, sì, è proprio qua, ha anche altri titoli, sempre dello stesso mondo, come SteamWorld Heist, che è un po' quello di rapine. L'ho scaricato, ma ancora non ci ho giocato, l'ho scaricato alla cieca, devo essere onesto, non so niente, ma ho visto che ci sono diversi titoli, quindi sono un po' incuriosito di vedere un po' la saga. Per chiudere questo video vi vorrei parlare di quattro titoli che secondo me sono vitali sulle Endeld, e sto parlando del blocco dei titoli PlayStation trasferiti su PC. Non c'è niente da aggiungere, ragazzi, sono fantastici. Giocate a Spider-Man su Endeld e ditemi specialmente su Steam Deck Oled se non vi divertite da morire, perché io ci avrò passato 100 ore per titolo. Sì, molto probabilmente sì. Persino la mia ragazza si è appassionata di Spider-Man, grazie alla Steam Deck. Gira da Dio, è l'esperienza perfetta. Perché? Perché è un gioco che nasce per console, ovviamente, e non è nemmeno troppo pesante. I 60 FPS riuscite a raggiungerli, specialmente su Rogalai X e Rogalai, Legion Go e Z1 Extreme in generale. Per quanto riguarda gli altri, invece, ce ne sono due che giravano particolarmente bene. Uno è Ratchet & Clank Rift Apart. Se siete appassionati della serie, è fantastico. Potete recuperarvelo anche su PC. Io lo sto finendo, proprio grazie alla Steam Deck. Ci gioco praticamente solo sugli aerei. È il mio gioco da aereo insieme a Deep Rock Galactic Survivor. E poi, se volete aggiungerne un ultimo, da poco ci hanno dato, finalmente, in prestito, Ghost of Tsushima. Ghost of Sashimi. Ghost of Tsushima. Ok, ci sono riuscito. Titolo del Giappone Medvede Feudale. Molto bello, onestamente. Niente da aggiungere. Siete un spalacino fantastico. è Sekiro facile. Se dovessi spiegarlo a qualcuno, direi che è Sekiro facile. Semplice. Cioè, perché è molto meno complicato. Non semplicissimo. Cioè, non è per stupidi. Ci sono delle combattimenti, secondo me, molto belli. E la trama, comunque, si sviluppa bene. Il combattimento, potrei definirlo nelle linee di un For Honor semplificato. Dai. Appassionante. Non a livello di difficoltà di Sekiro. Comunque, quindi, apprezzabile da tutti. Sono tutti e quattro giochi che costano un po', però li potete trovare molto spesso in sconto. Ve li straconsiglio. Sui handheld sono fantastici. Per il resto, ragazzi, per questo video è tutto. Spero di avervi ispirato. Ho messo il più largo numero di giochi possibili come generi e tipologie di gameplay. Spero che ne proviate almeno uno. Fatemelo sapere ovviamente giù nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video e buone vacanze se state andando in ferie dopo questo video o se siete già in ferie quando lo state guardando. In quel caso, siete molto, molto apprezzati. Noi ci vediamo al prossimo video. Voi state su Modern Tech. Sarà usa. Noi ci vediamo al prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie.